Signori oggi il drop lo deciderà il caso come potete vedere ho fatto un elenco dei 18 posti luoghi segnati sulla mappa di fortnite e quindi si deciderà il drop ad estrazione raga tutto chiaro Signor capitano Allora bertra dimmi un numero da 1 a 18 14 condotti confusi no che bello perdere che posto è e cos'è condotti confusi forse quello scavato è il buco Il buco cazzo al buco quello dove si è uscito è a scartano che solo da sti di pot Magazzino di pot dasti il posto dove si fa sempre eccetera quello al centro Se botta tese Oddio stasera aggando come la mamma mai ai scant Sì the fps ma è una vecchia miniera sta cosa ma è nuova non l'ho mai vista io ma non ha giunto a sto aggiornamento Mai visto io sta roba attenzione test opening più grande d'italia qualcuno pozzoncina Yes viva la bamba Ragazzi avete scudini io ne ho io ne ho uno no Revolver verde giova lo vuoi si sono sento una cassa lì Che cazzo è Ecco Dora in poi non parleremo più a voce ma solo con la soundboard Attenzione ar blu signori io sono ancora spendo il mio revolver verde camper te lo lascio qui perché ho trovato la slurp e non ha più posto Dove me l'hai lasciata camper? In una miniera vuoi essere più preciso? Siamo in una miniera E stiamo anche in safe raga grande Ma raga c'è una casa dove sono io perché non venite qua? Ma chi se ne feca l'altra casa? Siamo già splittati ma cristo dio Cioè fate a ficcarvi il pad nel culo e a giocare seriamente Il pad nel culo ho già provato non mi è piaciuto tanto E adesso che ci andate voi va bene eh pezzi di merda Si ovvio perché siamo tutti compatti e uniti come un vero team Ora in una casa andiamoci vai 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 Oh c'è qualcuno che spacca Oh c'è qualcuno sopra? Oh oh che pensimi Chi è lo stronzo che stava andando da solo? No, no Occhio ballo indietro ballo indietro Scati merda Ma cosa? Tomare omo E' sotto Bam BAM E' scappato Ops 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 Guardi ha scappato un po' io Troppo Si eh si 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 Aaaaa Qualcuno potrebbe arrivare da Greasy Groove Ecco nemici a 280 Visti, visti Sulla collina di dietro l'albero Non ingaggiate ancora Ecco Ecco Non ingaggiate Cosa ho detto? Dovevo provarlo lì ti importante col revolver E ti importante il cazzo Spawn sei proprio antitattica Ti piace il cazzo Spawn Ah sta costruendo mona Porto a due figurati te Guarda che se ci muoio subito Facci un casino eh Ve lo dico Cosa mona? No Campur Campur Eh vabbè Campur Daaa che palle A terra Manca ancora qualcuno Ah c'è un altro mona Facile direi anzi Più facile del facile Facile.it 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 Stai zitta Non fare pubblicità Tu andrea prova aspettare Scud in caso Berta così Sto aspettando Berta Forse è meglio che aspetto Scud Perché Berta fa schifo Ma cosa vuoi? Che cosa? Quante kill hai Scud? Scusa C'è costruzioni a 15 Dove cazzo è? Dove cazzo è? Basta Oh Eh Se non vedi le cose Ma dove cazzo è? Dove cazzo è? Ma dove cazzo è? Dove cazzo è? Ma dove cazzo è? Aggressiva che sta Dove stai andando Spagna? Dove vai Spawn? Torna giù ti prego A me piace pushare quei legni C'è proprio Il mio stile di vita In che senso? Basta Oh ma c'è gente Dove? Alle costruzioni Numeri Numeri 13 Che cazzo è 13 Dove è 13 C'è il 13 C'è la serie tv di merda per bambini depressi Si comunque c'è gente qua raga Qua dietro eh Non li vedo Mai nella vita E' dietro l'albero lo sto zappando Vai Bertra pushai dall'alto Eh vabbè Cristo Vedi dovevo spettare Scud Mortacci tua Bertra sei inutile Qualcuno vede i nemici? Oh Si Missile Da sotto da sotto 7 6 Occhio le granate Bah fuck Your mama is a bitch Pusho duro Non ho colpito uno Bravo Scala a sinistra Sotto 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 due raga Girati Bertra Madonna Scud fenomeno Fenomeno Sono troppo Troppo Cazzo Forte Vedete che dovevo spettare Scud a tutti i costi No Bertra che dà spalle ai nemici Dio santo Qualcuno ha delle pozze? A me servono missili Io sono un missile Qualcuno ha della colla? Io si un botto Dovevo aggiustare la prestazione di merda mia e di Bertra Oh Spawn è uno a 50 Dove cazzo è? Dove cazzo è? Non si può più usare È irrevedibile C'è quelle cuffie Raga nei commenti dove cazzo è? E c'è una cassa lì nel mezzo Sì sì vai vai Ma non è che mi spedito Dove è che è la cazzo Spawn? Dove cazzo è? Dove cazzo è? Dove cazzo è? Dove cazzo è probabilmente 120 Che strano Spawn è fuori positioning Vabbè raga I po' di safe E' sopra in alto Alcolina in alto Davanti a te Scud L'ho visto la casa La casa Non dire la casa Dile coordinate 110 Ma che giochi a Rainbow Six? Tu giochi a E? C'è Scud di fianco a me Si ma Scud mi capisce Perché è di fianco a me Pusha Pusha Occhio Scud a destra Nooo Ma non erano alla casa No non erano alla casa Erano alla casa 20 minuti fa Alla casa erano Non si riesce a capire Alla casa E qua sotto Spawn Vedi di parte di tutti Ciao Complimenti Spawn Che tristezza sta partita Siete dei bidoni Allora Spawn dimmi un numero 17 Ok dusty depot Nice Dusty depot Dusty depot Un applauso un applauso Grazie Dusty depot è Una grande città Un grandissimo posto Soddisfazioni tutti i giorni Ogni volta Che droppiamo lì La partita di dusty depot Facciamo una challenge particolare E facciamo un gameplay normalissimo Buttandoci da stevee pot Quanto sei scontato Giova Ero sicuro Aversi detto Ragazzi buttiamo da stevee pot Ho deciso il caso Io vi butto ciao Sai cosa succede da stevee pot Che qualcuno Non entra nel container E' una sola Categorica Categorica Imperativo per tutti Non so cosa ho detto Vincereee Tutti insieme Vinceremo E vinceremo E vinceremo Ho le lacrime La leggenda di Scaduce Alla walk bar Dai Novi dove è il chat bastardo Andiamo alla casa solita E io sono un chilometro indietro Perché Scad ha fatto qualcosa di simpatico Non è vero Ha lanciato una granata Alla walk bar Basta Alla walk bar Ma non puoi farlo Per farmi andare più lontano Più vicino anziché più lontano Volendo Si Nord ovest Guarda camper Basta che ti decidi E noi facciamo tutto quello che vuoi Raga Non hai capito nord ovest cosa sia Nord ovest Eh si beh Il vostro nord ovest è dietro la montagna L'altro era davanti alla montagna Vabbè Io nel dubbio Mi sparo in testa Che senso Devo vedere un attimo cosa è quest'audio Lo sento Non sei perfetto Immagino il contesto Questa è la tipica cosa che dice Bertrand I momenti più 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 diciamo Più caldi Oh scudo R verde ve lo lascio qua Cazzo il culo non fa figli mi fa male se lo pigli Ah queste perle E in relazione c'è questo Esatto Basta Infatti il vostro canale è muto con le vostre soundboard E però è qui fateci parlare C'è quanto ho lasciato una R l'hai preso? De cazzo è Oh andiamo il pacco 89 89 Oh E' impazzito No non si può rompere Raga meatbusters Il pacco che cade dal cielo non si può buttare Due Si Dove? Chest opening No di chest Ah ma che cazzo mi fai prendere il colpo Scusa la cosa Sono anche sotto Dove dove dove? Dove dove dove? Eh rocket La smetti con la balestra giova Non ce l'ho io Perché devo aver sempre la balestra? C'è lo scorso video e non ce l'ha anche in questo E' certo che c'è la balestra L'autismo passa da uno all'altro Ma che avete? Cromosomi Mamma mamma Perché non ho niente in più degli altri bambini? Ma tu hai cromos... E' attenzione Bertro vuole dire qualcosa Ho fallito in tutto Ah ragazzi gente che costruisce a ovest 275 Stam fitando Stam fitando L'ho aiutato a fare le foglie di un albero Non mi sembra possibile Ah l'ho aiutato Ma che bello Attilmente mi seguireste verso destra Grazie Si vabbè non si riesce a capire un cazzo Ma come ho fatto? L'ho aiutato veramente col missile che ci ha messo 13 secondi di tragitto Dovrebbe arrivare il colpo? Facile Ok bravo Bravo Scud Facile E' un altro A 2.70 Sta tornando indietro Quello sulla strada In mezzo alla strada Lo vedete? Ok eliminato Spettacolare GG E' nemico dietro di noi Uilà Qualcuno davanti a noi però Verso 300 Io mi curo Sta pushando E' sotto Eccolo qua Nooo non ci credo E' fatto hitmarker E' un colpo Ma ti do giù Guardali guardali come scappano dinanzi alla potenza Oddio mi hanno tirato da dietro Da dietro Giova C'è la palestra che spara i cuori gay Merda E' amici Io sono nella verda Può essere si La safe è partita quindi Devi correre più veloce della safe Se è una cazzo di gazzella la safe è leone C'è un cecchino sopra la casa Anzi vai sotto la casa Allora Organizziamoci Facciamo questa cosa qua Facciamo quadrato Mettiamo questo Oh Ma senti che bene che si sta qua Guarda che esperienza Sono rimasti in tre Ah sono rimasti in tre è vero In tre Eh un team da tre GGVP Ciao Nespaud C'è puzza di cazzi nel culo eh Lo sento No zitti devo concentrati E devo cercare di vedere i nemici innanzitutto Beh Raga comunque siamo secondi Non ci lamentiamo Vaffanculo Ecco a destra Eccolo Nicchia Aspetta 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 Attenzione Potrebbe non essere un team da tre Eh da visto ti sta pushando E invece lo sta pushando Perfetto ho appena detto Sparatemi sono qua Ok Giochino Sono due team Sono due team Fottitene Fottitene Ok le granate Che verso era Ah È diventato un sciadino sta spawn Mmm La safety si sta chiudendo in testa L'esperienza Niente Non va A chi tocca Dai scad dimmi un altro numero Grazie a dio Ehm Che cos'era questo Non hai mai visto il video del bambino che suona il flauto Era Antonio Dimmi un numero scad Ehm vediamo otto Spiagge snob Ah Interessanti Ma perché salti springs Non l'hanno Tradotto Perché forse Primavera salata Suonava male Forse per quello Forse per quello Crocevia con cianfrusaglie Suonava proprio bene Allora Sarà a voi Mi butta adesso direi No tra un attimo Facciamo che ognuno si butta In un momento diverso Vediamo chi arriva prima Sì facciamo la gara Cazzo mi sa che arrivo cortissimo Io eh Bada non botto cortissimo anch'io Raghi Ehm Mi sa che non ci arrivo eh Cazzo che è lì per terra Mio dio È atterrato Raghi Che faccio Soffre soffre in silenzio C'è 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 lo team lì al capannone O andiamo tutti al lì Turn back turn back Tutti qua tutti qua Dai tutti al capannone Poi però dobbiamo fare una tappa E per segnare il checkpoint A Spedite snobby Va bene Va benissimo Sì sì Giuro che lo faccio Non tiro dritto poi subito verso un magazzino moffieto No no Fanno una challenge La perdono appena aprono le paracadute Ah scudo Buona la colla Sniffiamo la colla Ah Full scudo Come si sta bene Guarda mamma come sto E dobbiamo passare da spedite snob raga eh Vi avverto Ma come? Sti cazzi No sti cazzi E allora rifacciamo l'intro Che numero hai scelto scad? Mmm 14 Pinnacoli pendenti Era proprio quello il numero Il capannone davanti a spiagge snob Ah ok Andiamoci Era numero Cos'è che hai detto? 8 8,5 Perfetto C'è anche decimali Sono Potremmo ricominciare la partita Ma non c'ho voglia E Indovinate un po' Spari a pinnacoli pendenti Spari Trano No ma va Ma non ci sono ancora 60 persone in quel posto No no Ok nemici a 105 dietro Dietro la casa Dietro il grattacielo Stanno costruendo Provo a cecchinarli no No Cielo ok ci hanno visto Come ci hanno visto? Si dalla scala è sbucato Ok ci ha visto si Attenzione alle trappole qui non ce n'è C'è pure una cassa qua Sembra tipo una missione di espionaggio Qualcosa del genere Qui non c'è nulla Cazzo è nato rainbow sto gioco adesso Rainbow Oh raga ma andate la macchinetta quella Dronate Dronate Col drone Oh raga c'è frosto qui alle trappole Ma è qua sopra? E' qua sopra Vai Ah tiratela giù No sono caduta Aia Uccidetelo Ok morto C'è un tizio Gente gente Sul crinale Scendiamo giù scendiamo giù Scendiamo giù Dovete scendere si Scud ma dove sei te? Sono giù Come giù? Sono tutti appostati fuori Spera andiamo a prenderlo Oh che spawn Togliti da lì Stai fermo Eccomi qua Ciao Ho delle bende però saliamo un attimo No il medikit aspetta La safe la safe la safe In un minuto se ne va eh Andiamocene 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 Ah si sono rimasti indietro C'è un airdrop qua Sono rimasti molto indietro loro Veloce Bertrand Lancia patate Damos e Damos e Damos Damos in safe Eh ok Sono lanciati raga Da dietro di noi Ci stanno attirando in testa Oh cavolo Dietro di noi li avete visti? Ok li vedo Eccone che arriva uno No si sono andati già sull'ovest Andiamo sopra questa montagna Ti sto seguendo anch'io Sali 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 Sono qua sotto Sono qua sotto Dove li vedo? Ah si Uitato 63 colpi A terra Occhio l'altro Sono tutti lì eh Un altro a terra Un altro a terra Ce n'è uno dietro l'albero L'ultimo è dietro l'albero Ok No eh Ma io ho giustitato uno mi sa E' qua Non lo vedo sono fuori Prendi lì qualcosa Allora sei Arrivo Tutti morti qui Non ho colpito la R raghi Io ne ho 900 Cosa? Bertra dammene un po' Nordest Nordest Visti? Ah li ho visti Si 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 ingaggia Mandato a terra A terra via A posto Oh c'è un altro qua Mi ha rovinato l'esperienza di gioco Da dietro Buono così Ok Bravi tutti bravi Time 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 Dobbiamo andarcene E costruzioni 120 L'ho visti Stavamo qua Sopra questa casa Ok Sul tetto ce n'è uno Ok l'ho visto Uccidilo uccidilo Ok a terra uno Vai a terra Terra due Bisogna di curarmi Da bone Da bone Di oca Non li vedo Da sopra Ok Ok visto Sopra Ah l'ho preso in testa e esploso Ehm no 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 c'è un altro 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 occhio Ecco cosa serve la mia Io 15 secondi mi bevo sta roba Che lenta sta pozza Ok è venuto giù tutta la Vai su Non c'era nessuno Ehi sono assurdi i nemici credo Visto Spittato una volta Dietro l'albero 165 Ok ce ne sono due a 140 Ok ce ne sono due a 140 Ok ne ho visto uno Colpito di striscio Hitmark Dammi info Eeeh 195 dove c'è il muro di mattoni Ah lo vedo Boh una terra una terra Buono Vai finitelo Andato Ok Ok mancano 3 secondi di squadra Eeeh uno a 143 Dove c'è l'albero Abbattete gli alberi raga Meglio Tutti gli alberi giù Oh lo vedo lo vedo lo vedo Ok una terra E' close è close lo faccio lo faccio Vai scade tuo Ok uno è divinato Quanti sono uno ce ne manca uno Ok ne avanza uno Occhio eh occhio Dov'è? Sono un sacco di cose Dove sta? Boh Dove si nasconde? C'è spugli forse? Abbattete tutti gli alberi Tutte le cose che sono in aria abbattetele Vai lasciate fare al demolitore No non è qua Vai 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 Non è assolutamente qua Dove mica è finito? Dove si è nascosto? Vabbè io sono tranquillo qua Tanto dovrà pusharci lui no? Raga io ho quattro scaracca Qualcuno ne vale uno? Io si magari così In amicizia lo accetto Si La tempesta l'ha ingrattito Ma che easy C'è la vittoria è stata piuttosto Unaspected Non so voi Io ho la paura che ci facesse 4v1 questo Ragazzi che dire Spero che il video vi sia piaciuto Io ringrazio Scada e Bertra Per averci cariato la partita Tra parentesi abbiamo vinto l'unica in cui Non ho manco fatto la challenge probabilmente Raga voglio mille meme con Fanno una challenge e la perdono appena si paracadutano Effettivamente Che dire dal camper Spawn È tutto noi ci vediamo Dove quando come? Come? Ma con un prossimo video Sgana Weeey